Regione Lombardia dimostra di credere nel turismo e nelle attività dei comuni Riviaraschi e del Sebino, oltre che di Montisola. Il punto della situazione è stato fatto in occasione della visita ai cantieri di Sale Marasino e Lovare, da parte dell'assessore regionale dei trasporti Claudio Terzi. Ma negli ultimi anni davvero sono stati quasi 7 milioni di euro gli investimenti effettuati da autorità di vaccino, grazie ovviamente all'intervento di Regione Lombardia e in alcuni casi anche alla copartecipazione dei comuni. Quindi la stretta sinergia fra i vari enti permette davvero di attuare delle opere importanti, non solo per la navigazione infrastrutturali, ma soprattutto anche, se vogliamo, per il rilancio turistico. Tutti i nostri pontili e le nostre motonavi sono costantemente oggetto di manutenzioni, revisioni e interventi migliorativi. A Sale Marasino in particolare il nuovo pontile è realizzato su area de maniale accanto a quello esistente che servirà da supporto in momenti particolari. È stato realizzato secondo tutti i criteri più moderni e dotato dei migliori servizi disponibili per tutte le categorie di utenti. Proprio qui sul pontile di Sale Marasino sono stati effettuati degli interventi molto importanti anche per venire incontro ai diversamente abili. Infatti c'è un percorso dedicato ai non vedenti, tutti gli accessi con rampe e tutto quello che naturalmente compete la normativa per davvero dare a tutti l'opportunità di accedere con facilità sulle nostre motonavi. Per cui gli interventi nuovi che sono in programma prevedono tutti quanti l'abbiattimento delle barriere architettoniche. A maggio autorità di Bacino con navigazione Lago Deseo hanno steso il piano degli interventi da proporre a Regione Lombardia per un possibile finanziamento. Anche quest'anno sarà una cifra analoga che verrà richiesta a Regione Lombardia, ci sarà una DGR intorno a agosto e poi chiaramente speriamo di essere finanziati davvero con tutte le opere richieste. È un momento di confronto anche per una programmazione futura e per capire un po' cosa fare nei prossimi passi. Da 2018 a oggi Regione Lombardia ha finanziato con oltre 7 milioni di opere di interventi nei vari comuni del Sebino per migliorare l'accesso degli utenti di navigazione e rendere sicuri moli, pontili, attracchi e pedane. Per un totale di 27 interventi strutturali a dimostrazione che crede in questo lago e nelle sue comunità che negli ultimi anni stanno conoscendo importanti riconoscimenti nazionali e internazionali.